La spesa media rispetto allo scorso anno è del 2-3% in più, ma siamo appena a 48 ore dai saldi anticipati. Centro di Bari, secondo giorno di shopping, con un'affluenza leggermente inferiore alla partenza, ma di domenica è fisiologico, comunque affollato. Si compra acquisti importanti, privilegiati cappotti e piumini, a seguire pantaloni e maglioni, e comunque capi di abbigliamento, approfittando dei ribassi fino a 70%, spesa media 150 euro a testa, clienti soddisfatti. Ho comprato un cappotto e un paio di scarpe. Come ha trovato i prezzi? Proporzionati, giusti, diciamo, un 30% di sconto e il prezzo corretto. Un 30% onesto su prezzi non gonfiati. Da Lavello, in provincia di Potenza, Bari, per i saldi? Sì, sì. Come mai? Perché è una buona occasione. In coda le casse con circa 200 scontrini battuti al giorno. Bilancio vero sarà dopo l'epifania, ma i commercianti sorridono. Oggi non come ieri, però adesso si sta muovendo ancora di più. Il consumatore vuol consumare in maniera molto più attenta. Oggi diventa un fatto di natura strumentale e si rivolge certamente ai negozi fidelizzati. In piazza si approfitta dell'ultimo giorno di proiezioni di film all'ombra della chiesa San Ferdinando, gettonatissimo sole a catinelle di Checcozzalone. Come la trova questa iniziativa del cinema in piazza? Ottima, ottima. Annullati i fuochi di lunedì, causa vento forte in arrivo, ma dopo le feste il Murattiano, e non solo, si animerà con concerti organizzati dai commercianti. Per incentivare lo shopping ben venga anche la musica.